Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB presso la sede di Talsano Taranto di USB. Arcelor Mittal colpisce ancora, infatti l'azienda ha previsto a partire dal 16 novembre a ben 13 settimane di cassa integrazione ordinaria. Una contraddizione considerando il fatto che la produzione sta aumentando visto che si registra un incremento produttivo di ghisa giornaliera passato da 7.000 tonnellate a circa 10.000 tonnellate. E allora Rizzo dobbiamo cercare di capire questa strategia di Arcelor Mittal. Forse si vogliono creare dei presupposti per poi determinare degli esuberi strutturali? Non so. Questo è un presupposto essenziale che noi stiamo denunciando da tempo da parte di Arcelor Mittal. Ed è chiaro che così come è partita la cassa integrazione, che serve poi a diminuire il numero dei lavoratori rispetto ad un abbassamento della produzione, diventa fortemente contraddittorio il fatto che tu continui ad alzare i numeri della cassa integrazione pur avendo un aumento del 30% di produzione ghisa. La dico così, se ci sono 3.500 persone in cassa integrazione per un aumento che corrisponde al 30% della produzione giornaliera di ghisa, avrebbe dovuto corrispondere almeno il 30% dei lavoratori che dovrebbero essere reintegrati dal bacino dei cassa integrati. Quindi almeno un migliore di lavoratori. Ciò non è successo, ciò non avverrà perché lo schema oramai è chiaro a tutti. In pratica quanti a pieno regime, diciamo così, se passasse questa linea di Arcelor Mittal, più o meno quanti operai avremmo in attività, in servizio? Ma secondo il disegno, da quello che abbiamo capito, dalle vorie ipotesi che girano, io credo che ci sarà almeno un esubero di 3.000-3.500 unità. Quindi arriveremo sulle 5.000 più o meno? Sì, che è un po' come dire la media degli esuberi che stiamo avendo negli ultimi 7-8 mesi, 3.500 persone. Quindi quella è l'idea che mi sono fatto io rispetto alle ipotesi che circolano. Quindi è chiaro che c'è un tentativo perenne da parte loro di dimostrare poi alla fine che quelle persone, con 4.500 persone, 4.600 persone, tu ce la fai a fare il tipo di produzione che hai previsto nei vari piani che girano. È chiaro che Arcelor Mittal vuole arrivare a questa cifra, ha sfruttato varie situazioni, la cassa Covid, ora quest'ulteriore cassa, il piano è quello. Ma a questo punto, se si dovesse arrivare effettivamente a questo, a quelle 4.500-5.000 unità massimo, a questo punto è più che mai attuale un discorso di riconversione industriale. Cioè tenere in piedi uno stabilimento per 5.000 persone e non sappiamo ancora negli anni a venire come si poterà, come si taglieranno ancora i rami, a questo punto bisogna pensare ad altro per Taranto. Sì, diciamo che quella equazione matematica tra lo scambio, che è brutto da dire, tra quello che produce in termini di inquinamento e quello che riceve in termini di lavoro è venuto completamente a mancare, ma non oggi. Sono anni ormai che c'è questo tipo di condizione. Oggi viene ancora di più aggravata, usando un pizzico di tarantinità, che secondo me manca in tutta questa storia, in tutta questa vicenda. La domanda vera è per quale motivo io devo avere gli impianti inquinanti in marcia, avendo poi tutto il pezzo a freddo in cassa integrazione, che occupa circa 4.000 persone, oggi, attualmente, e quindi faccio marciare i miei impianti perché devo far lavorare gli impianti del nord, che il problema dell'inquinamento se lo sono tolti scaricandolo su Taranto. Scaricandolo su Taranto. Questa è l'assurdità della vicenda. In un paese normale io a un certo punto non condivido, ma capirei la logica, hai gli impianti inquinanti in marcia, ma stanno lavorando tutti. Quindi sto facendo giro all'economia, sto dando lo stipendio pieno a tutti. No, qui il paradosso è che siamo condannati a vivere con gli impianti inquinanti in marcia, quindi assumire l'inquinamento e quella parte del lavoro pulita poi se la fanno pure in altri siti. E questa è la condizione che oggi, la cosa che mi preoccupa, che è una condizione che pare essere in continuità, non solo con i governi precedenti, ma anche con quello attuale. Perché anche qui non c'è stato nessun ragionamento che parta da Taranto, ma i ragionamenti partono sempre sulla questione degli alti forni che devono rimanere in marcia. Anche questa settimana ci sono state dichiarazioni di alcune organizzazioni sindacali, oltre che di Federmanager. Federmanager ha dichiarato che l'area a caldo non si deve toccare. Sì, ma non è l'unica, ci sono anche alcune organizzazioni sindacali che hanno dichiarato la stessa cosa. E' chiaro che qui diventa molto complicato fare un ragionamento sulla riconversione rispetto a posizioni di questo tipo. Ma oggi, ecco, l'idea qual è? Quello scambio che c'è stato negli anni oggi non ha più ragione d'essere, perché non è manco conveniente più. Quindi è inutile che... All'epoca ci si poteva dire, andando a esagerare, certamente io non sposo né io né lei, sposiamo questa tesi. All'epoca ci si diceva, ci si tura il naso, però almeno c'è occupazione. Mi arriva lo stipendio a fine mese, andando proprio a volgarizzare, a banalizzare il risorso. Oggi tu non hai... hai un inquinamento galoppante e non hai certezze occupazionali. I lavoratori di Alzer Ormittal vivono nel dubbio perenne. Sì, oggi c'è inquinamento, cassa integrazione e licenziamenti, oltre che disoccupazioni. In una città, tra l'altro, che ha un tasso di disoccupazione molto elevato, uno tra i più alti in Italia, se non sbaglio. Quindi questa è la condizione, la peggiore delle condizioni. E si dovrebbe ripartire, come abbiamo detto più volte, poi da quello che Taranto può rappresentare al di fuori del mondo dell'acciaio e delle grandi industrie. Però anche là, il problema grosso è che l'errore, secondo me, è stato fatto nel momento in cui si è consegnato questo stabilimento a una multinazionale. E come abbiamo visto, come dire, non sono rispettosi dei governi, figuriamoci dei territori. Ecco, Rizzo, quale sarà la risposta dei sindacati, in particolar modo di USB, dinanzi a questa richiesta, a questa idea, a questo progetto di ArcelorMittal, che è proprio in cui si emerge la contraddizione, è evidente, palese. Progetto, intendo, della Cassa Integrazione, dal 16 novembre. Senti, la questione della Cassa Integrazione va in continuità con quello che è lo schema di ArcelorMittal. Poi, noi lì al governo abbiamo più volte detto che se si vuole fare un ragionamento vero e serio, ArcelorMittal va tolta dal tavolo la discussione su Arcelor, perché non c'è un soggetto serio. Sono fortemente preoccupato perché quando il primo ministro, Conte, l'ha ribadito, dice che l'unico competitor che abbiamo oggi per discutere la questione di Ilva è ArcelorMittal, quindi... Dobbiamo tenere buono, anzi. Sì, è come se lo stiamo inseguendo, al netto di tutto quello che sta facendo sul territorio, con i lavoratori, cioè il clima della fabbrica. Settimana scorsa ci sono altri tre o quattro, fra virgolette, sospesi attualmente, probabilmente licenziati, perché di solito quando sospendono licenze. Quindi sta continuando quella carneficità. Il clima di terrore. Sì, pare che hanno sospeso, tra l'altro, anche un RSU di un'altra organizzazione. Ma il clima è sempre lo stesso. Se tu denunci i problemi di sicurezza, io a un certo punto ho licenziato l'operatore, ho licenziato te perché hai denunciato una cosa non vera. C'è questo il meccanismo che stanno mettendo in campo. E a me fa specie da cittadino italiano che il governo, con soggetti di questo tipo, che si comportano in questa maniera, ci stia facendo una trattativa, li stia pure rincorrendo. Un governo che metterà un partner pubblico, diciamo, una società partecipata, parastatale, quale Invitalia, poi continua a tenersi a braccetto un'azienda, che è quella che è ArcelorMittal, i cui crimini in ambito ambientale e i cui crimini anche nei confronti dei lavoratori sono noti in Italia e all'estero. Sì, non solo, ma si sta configurando, almeno in notizia di ieri, quella che sta girando, e fino adesso come dire, nessuno l'ha smentita, la peggiore delle ipotesi sul campo, che è quella della partecipazione statale con quota di mineranza. Ciò vuol dire che ArcelorMittal continua a decidere delle sorti della fabbrica, quindi detta ai tempi, ma i soldi ce li mette lo Stato. Lo Stato finanzi. Cioè, è come dire che io pago qualcuno per farmi ammazzare. Cioè, è quello che stiamo facendo. La peggiore delle ipotesi, tra l'altro, nei colloqui che abbiamo avuto nei mesi scorsi con il Ministero, il Ministero aveva escluso che la partecipazione fosse con una quota di minoranza. Anzi, aveva chiaramente detto che la partecipazione dello Stato sarebbe stata almeno con una quota di maggioranza. In quel caso ci sarebbe stata, diciamo, la tutela statale, tra virgolette. A questo punto serve solo per... Perché qui funzionerà così. Cioè, noi vi daremo i soldi nostri per continuare a massacrare le persone. Con l'aggravante che fra due o tre anni massimo, sperati i soldi perché quello faranno, staremo punte da capo. Quindi, come dire, l'unica cosa che il governo non dovrebbe fare, a quanto risulta, invece, la sta facendo. Sta facendo una classica trattativa a perdere. Quindi, a questo punto, Rizzo, ci domandiamo anche le promesse che sono state fatte dal governo. Gli incontri che voi avete avuto a Roma con il Ministro Patuanelli. Questo silenzio, questo subire in silenzio continua. Perché poi il tema è sempre quello, la situazione è sempre quella. Nel momento in cui voi interloquite con il governo, il governo vi dà ragione, però poi dice, purtroppo non ho altri partner, mi devo tenere a Arcelor Mittal. Quindi, ogni incontro diventa una dichiarazione di resa del governo rispetto ad Arcelor Mittal. Io credo che ci sia un problema di qualità della politica, un problema grosso quanto una casa di qualità della politica, che non è un problema che nasce oggi, è un problema che in Italia abbiamo, credo, da almeno 20 anni, 20-25 anni. Purtroppo dobbiamo dire che la qualità della nostra politica è scarsa, è bassa, perché altrimenti non ci saremmo ritrovati in modo perpetuo a commettere errori su errori sull'Ilva. Perché, lo voglio ricordare, è un'azienda questa che per tenerele in piedi il governo ha dovuto emettere qualcosa come 13-14 decreti, abbiamo perso pure il conto, oltre a tutta una serie di emendamenti e leggi e leggine fatte ad hoc per sostenere una fabbrica che purtroppo rispetto agli annunci del governo ha avuto sempre l'effetto contrario. mai quello di rilanciare la fabbrica dal punto di vista dell'inquinamento, dell'occupazione, della sostenibilità ambientale ha avuto sempre l'atteggiamento opposto, il risultato opposto, quello di purtroppo peggiorare continuamente fino a un certo punto a mettere a serio rischio la vita delle persone. Perché in una fabbrica che non è in sicurezza, tu ci rischi la vita tutti i giorni. E anche questo, che poteva essere l'argomento che dovrebbe funzionare da deterrente per stimolare il governo, è un argomento che non attecchisce. La dico così, quasi quasi abbiamo messo in conto che moriranno una serie di lavoratori, che licenzieranno erroneamente tutta una serie di lavoratori e gli si permette di farlo ad ArcelorMittal perché le cose devono andare così. Se tu mi chiedi qual è l'immagine della politica che ho oggi, è molto locurata, lo dico, non all'altezza della situazione. In questo contesto tra i lavoratori si avverte uno stato proprio di depressione, di sconforto, di sconfitta. Come reagire? Sì, lo stato di sconfitta, di depressione, secondo me nasce anche dalle pressioni che stiamo subendo dagli ultimi dieci anni. Ci sono pressioni, come dire, molto, molto pesanti. Però bisogna reagire, perché se l'obiettivo diventa giustificare la non reazione, noi a Taranto su questo siamo maestri, il problema è che bisogna reagire. Se uno si pone un obiettivo deve comunque tentare di conquistarlo mettendo in campo tutte le energie che sono a disposizione. Oggi purtroppo, l'abbiamo visto anche con le ultime manifestazioni, c'è sempre quello stato di paura. C'è un meccanismo secondo me che ancora è vivo all'interno di quella fabbrica. L'idea completamente sbagliata che risolta il problema personale o risolto tutti i problemi della vita. Non è così, perché, io lo dico sempre, ci hanno segnalato alcuni lavoratori che giustamente avevano interesse a tornare a lavorare perché si sono visti dimezzare lo stipendio che rivolgendosi ad alcuni sindacalisti di alcune segre sindacali riuscivano ad ottenere previa cancellazione dal sindacato in cui stavano iscritti in reintegro, in fabbrica. Pensare all'orticello personale in buona sostanza. Io ho semplicemente detto guardate che per uno che ne entra ci sarà uno che ne esce. Quindi tu fai il favore a uno ma fai un danno ad un'altra famiglia. Quindi come logica e ho detto chiaramente che noi ci pressiamo a queste logiche però se la gente ti viene a chiedere queste cose qui e non parliamo di una o due persone parliamo di decine e decine di lavoratori preoccupazione che siamo ancora in quel meccanismo che dal mio punto di vista è un meccanismo come dire che non porta nessun tipo di beneficio se non quello di spaccare la platea dei lavoratori e di creare la condizione giusta per chi oggi sta dettando i tempi Garcelor Mittal. Cioè l'idea è io ti butto le briciole e voi vi scannate per quelle briciole. Noi dovremmo pretendere tutti quanti insieme a un certo punto uno di mandarvi al solo Mittal e due di avere dal punto di vista del reddito una giusta proporzione che non può essere quella della cassa integrazione. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie.